Romano Libera si chiama così la lista che sosterrà la corsa sindaco di Giampaolo Lorenzato nel simbolo la torre del comune e il leone alato di San Marco. Il motto è salviamo il comune dal cancro dei partiti. Nel programma la proposta di fare le riunioni di giunta nelle fabbriche e nelle stalle e lo spostamento dell'ufficio del sindaco nella stanza più piccola del municipio. Poi no a nuove aree edificabili, bonus per le ristrutturazioni, incentivi alla piccola impresa e consulenza gratuita contro fisco ed equitalia. Capolista sarà a Luciano Dissegna, prima donna in lista Stefania Pontarolo. Credo un progetto che questo gruppo sta portando avanti nell'amministrare la cosa pubblica con onestà. Per Romano Libera al comune ora serve normalità. Una lista civica che porterà la normalità all'interno del territorio comunale di Romano e quindi di annullare anche tutto l'odio sociale che si è creato finora. La parola d'ordine per Romano Libera è partecipazione. Portare i cittadini ad essere protagonisti all'attività politica, sociale e economica del territorio comunale.